Un caro saluto a tutti quanti, ci sono stati The Game Awards questa mattina molto molto presto e io in questa occasione vi vado a sviscerare solamente i trailer nei cui ne parleremo un attimino dei giochi che più mi interessano. Attenzione però, do un piccolo strumento di lettura per quello che vedrete prossimamente. Non ho messo tutti i giochi che sicuramente mi piaceranno perché ce ne sono molti di più ma ho messo quelli che hanno dei trailer di gameplay che secondo me sono tra i giochi che mi interessano di più. Quindi c'è sia l'interesse al gioco che al fatto che abbiano fatto vedere il gameplay stesso. Per esempio, il prossimo gioco di Kojima potrebbe essere interessante, è un horror però francamente Kojima per quanto mi riguarda in generale è un grandissimo paraculo nel senso che lui butta fuori dei giochi per cui la gente impazzisce, si strappa le vesti ogni volta che lui fa dei giochi e tantissime volte francamente mi ha deluso alla grandissimo. Vedi l'ultimo gioco che ha fatto del portapacchi in giro per il mondo che sente veramente il gioco più bello del mondo, di tutta la galassia. Francamente faceva veramente cagare sia come gameplay che come storia, non ho visto quell'innovazione assoluta del coso, però quando lui parla tutto il mondo deve ascoltare, però giustamente ognuno ha i propri gusti e anche chi se ne frega. Ecco, oltre a quello che comunque potrebbe essere un gioco interessante, per esempio io ero super ciapato per Silent Hills che lui stava dirigendo, eccetera eccetera. Insomma, comunque ci sono tantissimi altri titoli che sono veramente super fighi, probabilmente saranno super fighi, ma ne hanno buttato lì un teaser, hanno buttato lì un nome, quattro cose, cioè quindi francamente non mi va di dare il mio avallo su qualcosa che non mi fai vedere e ripeto, poi magari mi fai vedere questi e faranno cagare, però quello che io voglio è questo, cioè titolo interessante e gameplay interessante da vedere. Allora, buttiamoci subito con ovviamente il mio gioco preferito della vita, di tutte quante le vite, che è Monster Hunter. La saga io l'ho stragiocata, ho credo un milione e mezzo di ore sui vari Monster Hunter, qui palesemente questo è il motore di Rise, non quello di Word, si capisce che sono, lo dico ovviamente con massimo affetto e rispetto, però si vede che è un po' arretrato. Rise aveva un motore che doveva girare su Switch, tra l'altro Switch curiosamente non rientra tra gli elenchi, almeno che io abbia visto, ma sicuramente Switch 2 sì, ma probabilmente per quello che si è visto, francamente mi sembra un gioco che Nintendo Switch, anche quella attuale, possa assolutamente gestire. Vedete, tra l'altro bellissima l'idea del animale volante, animale che può fare cose, probabilmente si arriverà al controllo completo di uno dei mostri che potremmo andare magari a sfruttare in toto come non solo pet, ma anche proprio come magari animale di vario tipo. Adesso con il Rattalos finale ci saluta, 2025 quindi ci vorranno due anni e quindi molto probabilmente vedete che non rientra in nessun modo la Nintendo, in nessun modo, probabilmente si aggiungerà in corso dopo, anche perché 2025 significa che comunque avremo 2024 Nintendo Switch 2, quindi automaticamente si inserirà perché è impossibile che non ci possa essere, quindi probabilmente loro hanno questo tipo di logica. Mi sembra però un po' strano che abbiano scelto questa grafica un po' retro. Ripeto, World a me come gioco non è piaciuto, però francamente era più avanzato rispetto a Rise. Rise è un piccolo miracolo di estetica, di grafica? Assolutamente sì. Su una Nintendo Switch, su PlayStation, PC eccetera eccetera, no. Poi io sono dell'idea che cento volte anche quel tipo di grafica che comunque era davvero carinissima, bellissima le animazioni, una roba mega galattica, però World si capiva che era molto più avanzato sotto altro tipo di aspetto. Però chi se ne frega, queste sono le mie considerazioni e vedremo come andrà il prossimo, insomma prossimamente. Ecco, altra piccola particolarità, potrebbe anche essere che Nintendo Switch non ci rientri, cosa che dubito fortemente, ma che questo si implichi che arriverà un capitolo ad hoc per Nintendo Switch, cosa che potrebbe fare la bomba, l'annuncio ufficiale di un capitolo numerato di Monster Hunter per Nintendo Switch 2. Quindi Nintendo Switch 2 arriva a Monster Hunter 5, diciamo che sia, perché l'ultimo è stato il 4, poi tutti gli altri sono stati capitoli, c'era stato Generations, c'è stato World, c'è stato Rise, però dovrebbe essere il 5. Quindi dire ufficialmente che arriva Monster Hunter 5 su Nintendo Switch 2, capite che fa sicuramente un certo impatto anche per i potenziali acquirenti. La cosa però è strana perché se esce in questo modo è anche palese che poi esca anche su console, quindi cosa fanno? Due capitoli a ridosso fanno un capitolo solo per Nintendo Switch 2 e nello stesso tempo fanno un capitolo specifico sulle altre console? Non lo so, però vedremo quello che succederà. Andiamo invece con questo titolo qua, The First Berserker Kazan. Anche questo titolo tutto da scoprire. Avevo già visto quello screenshot lì, forse si era visto anche un teaser, non ricordo se c'è roba varia in giro, bellissimo dal punto di vista dell'animazione. Questo cartoon, guardate quanto è bello, bellissimo, Perry esagerato, questo stile cartoon ma di grafica dettagliata, insomma. Gioco della vita, non so se sarà gioco della vita ma per quanto mi riguarda ecco questi sono quei titoli che mi fanno assolutamente impazzire. Già dall'inizio per me sono proprio i miei titoli, quindi io ne sono ultra uber felice e insomma andremo a misurare tutto questo. Bellissimo la cosa con la doppia arma, chissà se ci saranno varie disposizioni di armi eccetera. Però insomma, arriverà su Steam, un po' tutto eccetera. Vedremo, vedremo, vedremo. Allora, andiamo invece su Black Meat Wukong. Allora, in questo gioco francamente non ci ha mai creduto nessuno, io sì dal primo frame, pur pensando che questa cosa sarebbe stata magari non il gioco della vita, ma francamente per quello che vedevo io l'ho sempre pensato, il mio gioco della vita. Super, 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 graficone, animazione, tutto quanto, sono al lavoro da una vita, c'è da porsi la domanda quanto sarà grande, ma nello stesso tempo, ripeto, il team che era iper piccolo, per quello non riuscivano a proseguire con un certo ritmo spedito. È stato allargato mille elementi e quindi è stato portato avanti. Di questo gioco, non so se avete già visto altri teaser trailer, vi consiglio di andarveli a vedere. C'è proprio il concetto, qua vi fanno vedere un po' il boss, guardate il livello di dettaglio, ma anche proprio il bestiario e soprattutto il livello di animazioni. Questo personaggio che fin dall'inizio, pochissimi sviluppatori iniziali, hanno mostrato delle cose davvero, 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 davvero incredibili. Qua giustamente, giustamente no, però qua fanno un po', è un trailer del mood, senza, insomma, anche per far vedere tutto quello che è stato aggiunto, perché francamente si vedevano un paio di collegamenti, però qui c'è tutta la parte di regia, di questa grafica, cioè francamente pazzesca, per uno studio così piccolo, almeno ripeto, dal punto di vista iniziale, e che francamente tanti altri, eccolo qua, che vedete, vedete all'opera, cioè tanti team super blasonati, francamente non ho, dico, quasi mai visto una roba del genere, cioè quindi davvero, davvero dietro a questa cosa, dietro a questo gioco, cioè gente che sa fare molto bene il proprio lavoro. E qua dovrebbe esserci, perché sto vedendolo per la prima volta insieme a voi, questo, anche il, la data di uscita. Let me do Kong, vediamo, adesso ce lo dice, agosto, 20 agosto 2024, quindi, insomma, non male, su PC sarà sotto Epic Store, questo, vabbè, non so se lo prenderò console, però, a parte questo dettaglio, andremo a vedere. Allora, questo invece me lo sono già spoilerato, e francamente mi andrò a soffermare su frame singoli, perché qua SEGA ha annunciato lo sviluppo, non di uno, ma di tutta una marea di titoli che arriveranno, non so se già nel 2024, ma comunque che arriveranno prossimamente, di tutti i brand, tutti, insomma, una parte dei brand più famosi, che rappresentano proprio nello specifico SEGA, e che sono stati praticamente spazzati via da qualsiasi, diciamo così, radar per tanto tempo. Ricordiamo Jet Set Radio, che quando adesso andremo a vedere, ma sono tutti piccolissimi frame, ma dopo mi soffermerò un attimo, titolo, diciamo, emblematico del Dreamcast, poi comunque convertito anche in altre piattaforme, no, anche perché mi sembra che sia arrivato in contemporanea sulla prima Xbox, se non dico una cazzata, bro, vabbè, amen. Shinobi, vabbè, Shinobi praticamente ha rappresentato il Mega Drive, ma tenete conto che, oltre alla piattaforma arcade, ma lo ricordo anche, io ce l'ho, per essere uno dei pochissimi titoli Game Gear meravigliosi, fantasmagorici ancora oggi, perché secondo me i titoli più fighi per qualsiasi console, anche quelle più piccole, come appunto un Game Gear, o che comunque aveva una limitata capacità computazionale, eccetera, eccetera, ma i titoli più fighi sono quelli che poi attraversano il tempo e restano comunque sempre fighi, questo è uno di quelli. Golden Axe, vabbè, no, non c'è nemmeno da raccontare, Golden Axe è uno dei miei titoli di punta in assoluto, soprattutto Revenge of the Death Eder su cabinato. Streets of Rage, vabbè, abbiamo visto il 4 recentemente, è fatto molto molto bene, ma probabilmente adesso Sega ha deciso di riportarlo interno, quindi farà uno sviluppo, a meno che non sia in collaborazione ancora con gli altri sviluppatori, ma molto probabilmente se lo riporta nello sviluppo interno. E Crazy Taxi, che francamente questo trailer svetta davvero alla grandissima. Adesso qua noi saltiamo quel pezzo qua perché francamente non ci dice assolutamente nulla, qua solo l'introduzione, si serve davvero tantissimo tempo per farci perdere tempo su quello che saranno i giochi, vedete che qua si parla dei cabinati, ed ecco qua, Jet Set Radio, vedete che ha la stessa impostazione, super cartoonosa, super follia, con tutto quello che ci deve essere. Questo è Streets of Rage, e direi che ci siamo, poi ripeto, bisogna vedere gli gameplay ragazzi, perché comunque vi fa capire comunque come siano riusciti a rifarlo. Qua tra l'altro lo hanno fatto in 3D, quindi totalmente impostazione non quella classica di Streets of Rage 4, ma un'impostazione di combattimento in 3D, ma come picchiaduro scorrimento classico, quindi potrebbe essere che abbiano trovato anche un'ottima formula, vedete anche la logica della colorazione, eccetera, quindi siamo un investimento ben fatto. Questo è Shinobi, Shinobi invece mantiene una grafica cartoonosa, mantiene il 2D, e ovviamente tutte le sue super animazioni, cioè che cazzo c'è da dire ragazzi, è fenomenale, guardate che bello questo tipo di parte platform, è veramente pazzesco, ecco qua il dubbio grande, il dubbio grandissimo, allora secondo me loro facevano un Golden Axe ancora simile, quelli classici, ecco su Golden Axe 3D, francamente ho enormi, incredibili, giganteschi dubbi, non so come possa presentarsi in questo modo, però, però, io Golden Axe, che è una delle mie saghe preferite, teniamo le dita incrociate, che possa essere un bel gioco, vedete che comunque c'ha questo tipo di cosa, qua per esempio sembra molto molto carino, c'è anche, torna la, diciamo così, gli animali che possono essere, insomma, li si può cavalcare, è sempre stato così, anche in quelli classici, c'è stato quell'orribile capitolo su PlayStation 3, sparito ovviamente dai radar, Beast Rider mi sembra che si chiamasse, che è stata una cosa abominevole, e immagino che SEGA parta da lì per dire, è esattamente quello che non va fatto su Golden Axe, quindi il fatto che loro, con la possibilità, vedete Shinobi 2D, Streets of Rage 3D, quindi, insomma, sono abbastanza, spero, spero tantissimo esperti, da dire cosa fare e cosa non fare, qui aver fatto questa scelta così coraggiosa, spero li porti nella direzione giusta, insomma, non lo so, francamente, ecco, aver visto questo, non tanto dal punto di vista grafico, perché sembra molto carino, però nello stesso tempo, tra tutti, che essendo questo il brand che io amo di più Golden Axe, e averlo visto così, è l'unico che non mi ha acceso hype, francamente, qua invece, super galattico, Crazy Taxi, perché sembra fatto veramente molto molto bene, proprio come il classico Crazy Taxi, è fighissimo l'animazione, c'è la derapata e tutto, c'è chissà come lo fanno, e qua c'è l'inizio di questo nuovo sodalizio di Sega, con i prossimi titoli, qua vi dice che sono in sviluppo, però non ci dice altro, e quindi ce lo teniamo per buono, esattamente così com'è. Titolo invece che mi ha, insomma, qua in realtà è un teaser, ma è un teaser, che so che uno dice, vi ho detto all'inizio, non mi interessavano i teaser, però, questa parte pre-renderizzata, ma nello stesso tempo, secondo me, c'è anche, un po' di gameplay, che è la parte Survivor di Jurassic Park, graficamente incredibile, e molto probabilmente, questo gioco ricorda, forse, un po' Jurassic Park Trespasser, che era quel gioco, che appunto, insomma, tipo Survivor anche in quel caso, non famosissimo, però, insomma, che ha fatto un po' la storia anche lui, dei videogame, soprattutto quelli molto vecchi, qui, secondo me, però, si rifà tantissimo a Alien Isolation, che ha di fatto generato, ha creato un genere ad hoc, quindi, come e come e quanto si svilupperà, lo capiremo, qui sembra proprio fatto, esattamente, e qua farà vedere l'acqua che trema, non l'avrei mai detto, qua proprio rasentano, proprio il, eccolo qua, che vi fa vedere il gioco, Jurassic Park Survival, vedremo, 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 però c'è quella cosetta lì, finale, insomma, mi piace, mi piace l'idea, mi piace il pensiero di questo tipo di gioco, proseguiamo con Rise of the Ronin, di Koei Tecmo, questa è un'esclusiva di Sony, voi sapete che esclusiva significa, che 99%, 100% vi direi, arriverà anche su PC prossimamente, però è tutto, veramente tutto da capire, ovviamente sembra veramente molto bello, bella questa cosa, fantastica, veramente bella, loro sono comunque quelli di, Wulong, no, Wukong è uno, Wulong è l'altro, insomma, comunque quelli che hanno appena fatto, quell'altro, sorta di seguito spirituale, di Nioh, e sono secondo me molto talentuosi, qui, c'è un investimento secondo me maggiore, sembra comunque molto più bello, però, gioco molto diverso, rispetto a quell'altro, molto interessante, intrigante, intrippante, bello, mi piace, ed ecco qua, ecco qua, Ronin, Ronin, c'è una data, interessante anche che ci sia l'introduzione delle armi da fuoco, quindi sì, siamo più sull'800 ormai, 22 marzo 2024, quindi non manca tantissimo, e andremo a vedere, non rest for the wicked, andiamo a vedere, mi sembra di aver visto, del gameplay, e quindi andremo a vederci il gameplay, vedete, sarà probabilmente un action, roguelike, guardate quanto è bello graficamente, bellissime le animazioni, bellissima la colorazione, bellissima la parte dell'illuminazione, originale, particolare, guardate quanto è figo, come si fa a resistere, ad un gioco, del genere, e, non ho poco tutto ciò, non ho ever the wicked, c'è una data, no, primo marzo, ci sarà una novità, poi abbiamo, il blade, allora io del blade, anche qua, tutto il mondo, si è stracciato le vesti, per il primo blade, mi è praticamente non mi è piaciuto, proprio per un cazzo, probabilmente anche loro avevano, meno denaro, di quello che, potevano permettersi di gestire, però, non mi è piaciuto, puzzle tutti uguali, situazioni abbastanza imbarazzanti, cioè, vinceva la parte recitativa, però dopo un po', ho anche un po' rotto il cazzo, e però, da capito qui, in che modo, poi si, paliserà, c'è ancora l'attrice, che, probabilmente, farà proprio anche, una parte recitata, cioè, saranno proprio forse, filmati veri e propri, ma sicuramente qua, c'è un budget, mille volte più ampio, e quindi, vedremo anche, sulla parte di combattimento, come, si svolgerà, è chiaro che l'idea c'è qua, e qui non si può dire, non avevano fondi, per poterlo gestire, perché Microsoft, l'hanno rinviato, cento volte, hanno ampliato il team, Microsoft ci ha messo dentro, un fracco di soldi, cioè, quindi, qui non ci sono più scuse, e vedremo, se saranno stati capaci, di, conquistare anche me, come non erano stati capaci, di conquistarmi, come prima, sicuramente la parte, questa qua, di combattimento, di animazione e tutto, sembra veramente molto bella, lei penso non sarà mai pulita, neanche per un minuto, nel gioco, però è bello così, con le sue voci, la sua disperazione, la sua forza, è veramente valida, infatti lei, secondo me, è un personaggione, però, ripeto, nel primo, non è stato gestito molto bene, ad ogni modo, arriva, Hellblade 2, 2024, senza altri rimandi, bene, signori, è un video lunghissimo, però vi ho fatto vedere, tutti quelli che sono i titoli, per me, più interessanti, naturalmente scrivetemi, quello che secondo voi, saranno i vostri titoli, e che cosa state aspettando, io, come sempre, vi mando un grande abbraccio, alla prossima, e ciao.